Ciao ragazzi, oggi sono tutto solo soletto al TAV Umbria Verde per la seconda prova del campionato d'inverno. L'atleta Brachi è sempre ammalato, l'atleta Valerani, l'atleta Millighetti, l'atleta Rossi e l'atleta Barbagli hanno sparato questa mattina. Se non sbaglio l'atleta Barbagli ha fatto 46, l'atleta Valerani 42, l'atleta Millighetti 40, l'atleta Rossi ha un po' di febbre secondo me, un po' parecchia però lieve lieve, dovrebbe aver fatto 37. Poi dopo ho sparato io, pedana un po' in ritardo però va bene, ho fatto 25 la prima e 21 la seconda sbagliando anche l'ultimo, bravo, 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 tonto. E niente, domani ci riposiamo, complimenti all'atleta Lattanzi Francesco perché ieri ha fatto 50 ragazzi, 50 su 50 e complimenti anche all'atleta Donati Riccardo per la settimana scorsa che ha vinto il trofeo del presidente. Alla prossima, terza prova, Tav Foligno, ciao!